In casa Teramo sono ufficiali altri due acquisti, si tratta dell'attaccante Pietro Cianci e del centrocampista Federico Viero, si tratta del quarto e quinto colpo della nuova gestione Iachini-Iaconi dopo l'arrivo di Tomei tra i pali, del difensore soprano dalla fermana via Genoa e del ritorno di Carlo Ilari. La costruzione della rosa da consegnare a Bruno Tedino, che sarà presentato dopodomani, procede ancora, perché di tasselli mancanti ce ne sono ancora molti. Per esempio va trovato un difensore centrale. L'incontro di ieri sera tra la dirigenza biancorossa e l'entourage del difensore Francesco Cosenza non ha assortito gli effetti desiderati. Ancora troppa alla distanza ed è probabile che il diavolo possa pensare anche a qualche nome alternativo da affiancare, proprio a soprano e alla rientrante Speranza. È evidente che manca ancora il sostituto a livello di esperienza di Nebil Caidi. Così come a centrocampo è praticamente sfumato l'ingaggio di Antonio Vacca. La richiesta alta di stipendio, 300 mila euro, poteva essere compensata grazie all'ausilio del Parma, che però ha preferito dirottarlo altrove. Con proietti che è andato via serve un centrocampista che sappia impostare il gioco. Ed ecco perché nei giorni scorsi Tedino in persona aveva chiamato Federico Carraro, che potrebbe tornare a vestirsi di biancorosso. Così come c'è la pista, ma doppia, che porta a Simone Santoro del Palermo, che arriverebbe tramite i buoni uffici dell'agente Silvio Pagliari, con il quale il Teramo ha formato un asse di mercato, insieme a Luca Di Matteo. E anche in questo caso si tratterebbe di un ritorno per l'esterno offensivo che giocò i sei mesi, da gennaio a giugno, della cavalcata del Teramo in Serie B. Tedino, che appena ha chiuso il suo contratto col Palermo dai Rosanero, vorrebbe pescare anche stante le difficoltà dei siciliani, a cui è stata rigettata la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Col direttantismo alle porte, tutti coloro che sono attualmente sotto contratto si liberano dal vincolo e potrebbero rappresentare un'occasione ghiotta per chi, come il diavolo, attraverso il proprio allenatore può avere un filo diretto con il Rosanero. Tornando agli ultimi due arrivi per Cianci, si conferma lo stretto legame tra i biancorossi ed il Sassuolo. Dai neroverdi stanno arrivando parecchi profili, quello del centroavanti è uno di questi. Classe 1996, nella passata stagione 32 presenze, ma solo 7 reti con la maglia del Siena. Cianci è un prospetto che può ancora crescere, anche perché l'anno prima a Reggio Emilia 27 presenze e 4 gol. Insomma, non proprio un uomo da caterve di reti, ma il Teramo scommette sulla sua gioventù per provare ad affiancare Saveriano Infantino oppure per mettergli a fianco il sostituto eventuale del bomber materano. Alto arrivo dal Sassuolo in questa sorta di connection con i neroverdi e Federico Viero. Per lui, prima esperienza tra i grandi e la voglia di lanciarsi un campionato duro come la Lega Pro. Anche se i colpi, quelli che dovranno davvero cambiare il volto del diavolo, devono ancora arrivare.